Per rendere l'azienda a prova di proiettile, non siate pigri, cioè non fermateli alle prime cosine che avete imparato o alle prime cosine che avete implementato sul marketing, non fatelo, non fatelo, ok? Dovete continuare a rendere il vostro marketing più complesso. Parliamo dell'importanza di rendere la nostra azienda forte, di rendere la nostra azienda a prova di proiettile, di rendere la nostra azienda antifragile, tra virgolette. Stiamo parlando del concetto di base che ci saranno sempre persone che saranno disposte, imprenditori, professionisti, persone di quello che tu fai, saranno disposte a copiarti al 100% e farlo con numeri che non girano. Per esempio ho partecipato a un corso specifico che abbiamo fatto per dentisti e una domanda che mi ha fatto giustamente uno dei partecipanti che ha cominciato a spiare con noi da poco e mi ha detto, guarda, io vorrei capire una cosa, ho detto dimmi. Nel senso che io ho cominciato a fare queste cose, a dire queste cose nel marketing, ho cercato di posizionarmi dicendo che sono specialista per fare questo tipo di intervento, bla bla bla, ho detto bravo, però ho un problema, che ho un altro dentista nella mia zona che mi copia, quindi copia tutti i miei materiali. Cosa posso fare? Ovviamente ho provato a spiegargli, l'ho provato e ho capito benissimo, che per loro che sono dentisti è strano perché si stanno approcciando ora al marketing, ma tutti noi altri tendenzialmente che siamo imprenditori viviamo in un mondo nel quale il marketing è un po' più normale, tra virgolette, è un po' più sdoganato, è un po' più presente e quindi il fatto che la gente ci copi, che ci siano i cinesi, i copi e incolla di quello che facciamo, tendenzialmente è la norma, così come esistono i copi e incolla di quello che è il metodo merenda, sono tutti i cinesi, sono come Frank, ma se Frank ti sta antipatico o se vuoi spendere meno, non lo so, non è vero perché poi questa gente ha anche la faccia di chiedere delle cifre che ogni tanto le vengo a sapere per la punta delle orecchie e mi fanno rabbrividire, ma insomma il punto vero è che ci sono persone che possono copiarmi, apparentemente, possono e lo faranno costantemente, copiare l'immagine, la superficie, ciò che vedono a livello superficiale, copiare i miei messaggi, copiare i miei materiali di marketing, quello si può fare, sono pubblici, è ovvio che sia così, è una cosa che accade nel mondo costantemente, quello che non possono fare però è copiare, perché non lo conoscono e non lo possono vedere, perché ci siamo noi da sotto, l'ingegneria finanziaria che muove, tra virgolette, il nostro funnel, muove i tanti modi nei quali noi guarniamo dai clienti, con tutti i vari upselling, cross-selling, come lo portiamo avanti nel funnel, nel continuare ad acquistare, nell'acquistare cose diverse, nell'acquistare cose più complete, più care, nel darmi dei referral, ok, cioè tutte queste cose che sono molto intricate, sono un insieme di tecnologia che noi abbiamo, che chi studia con noi insomma nel tempo impara, o che si fa fare da noi a livello di lavoro tecnico, di agenzia magari già installato, è più semplice, non sono copiabili, quelle cose non sono copiabili. L'ingegneria finanziaria che noi mettiamo giù, sapendo quanto mi vale il ciclo di vita reale di un cliente, e quanto mi costa acquisirlo, e quindi quali sono le lezioni che devo fare per andare in pari e poi andare a guadagnare, le persone non lo vedono, quindi c'è una complessità in realtà che là fuori non si vede e che rende la mia azienda antifragile. Allora, la prima cosa ragazzi che a livello un po' avanzato, io condivido con tutti, visto che è una cosa carina che è uscita l'altro giorno, mi ha dato proprio lo spunto per ririflettere su questo passaggio, cioè il punto ragazzi non è solo aver capito il concetto focus, il posizionamento, magari ve lo siete fatti da soli, ma va bene, vi siete scelti una specializzazione, un posizionamento, una focalizzazione e la dichiarate e lì abbiamo chiuso. Ah bene, allora posto, questi clienti sono tutti miei, ci ho messo il recinto perché io ho detto queste cose. Non funziona così. Per creare un brand è necessario in realtà anni, cioè anni per continuare a fare campagne, a vendere, noi i brand li creiamo vendendo cose al maggior numero di clienti possibili. Non lo facciamo con le campagne in televisione, con la brand awareness, perché nella nostra nicchia ci conoscono, quello che ho detto mille volte, io non sono famoso nel mondo, però sono famoso sì per una nicchia specifica di persone che sono quelle interessate ai nostri prodotti e ai nostri servizi. Non c'è nessuno che è appassionato di marketing, di vendita, che parla italiano e che non sa chi si affronta in merenda. Poi gli posso piacere, non gli posso piacere, può essere il mio cliente, può non essere il mio che, non è in discussione questo, però sicuramente sa chi sono. La stessa cosa, ragazzi, vale per voi, cioè la maggior parte di noi non vende il Mastro Lindo che lo troviamo su tutti gli scafari e tutti in casa hanno bisogno del Mastro Lindo, o vende i pelati, o vende il caffè, vende roba da GDO. Quindi in realtà noi non abbiamo bisogno di brand awareness, ma abbiamo bisogno che ci sia un awareness ma solo relativa a quella nicchia di persone che sono interessate ad acquistare i nostri prodotti, i nostri servizi. Questo è quello che dobbiamo fare. Il punto, ragazzi, è, voi volete essere contenti, come io sono contento, delle persone che vi copiano qualunque tipo di materiale di marketing, ma perché voi sapete che è una trappola. C'è nel senso il modo corretto di utilizzare quei materiali di marketing, e innanzitutto è utilizzarli, nel senso, se uno anche copia le mie dichiarazioni, come è capitato al collega insomma dentista con quale parlavo l'altro giorno, ho capito che questo ti ha copiato, ma se tu fai le campagne e questo non fa le campagne, cioè che tu stai vendendo, cioè acquisendo comunque clienti a studio per fare determinate cose, e questa persona, se qualcuno per sbaglio gli finisce in studio, legge le cose che dice, ma se non fa campagne è inutile. Quindi la prima differenza non è faccio una dichiarazione posizionante, ok, vabbè, la stabiliamo, ma diciamo che me la copiano, ok, però io faccio le campagne, quindi prima linea di difesa, la più semplice, io la uso per acquisire clienti, quindi faccio la lead generation, ci metto il front end, acquisisco i dati, vendo queste cose qua, l'altro no, già anche se mi copia, se non lo usa, ok, lo lascio semplicemente come scritto in bacheca, o scritto nel suo sito istituzionale, chi cazzo va a vedere i siti istituzionali dei dentisti, nessuno, a meno che qualcuno non ci giri sopra i clienti perché fai delle campagne, quindi io creo delle campagne in funzione del posizionamento. Due, l'ingegneria finanziaria di queste campagne rende la mia azienda al gradino ancora superiore, quindi questo sta al piano terra, e io in realtà ho fatto il primo piano, il secondo piano, il terzo piano, ho soppalcato e sono andato su, cioè ho cominciato a creare una serie in realtà di funnel, una serie di campagne, una serie di reti e reticole che creano quell'ecosistema che mi porta clienti e in più ho creato in realtà quell'ingegneria finanziaria per da front-end a back-end, da back-end a cross-selling, da back-end ad up-selling, da back-end magari a membership o piano di abbonamento o continuity o il fatto semplicemente che la persona rimanga a comprare da me, a meno che non sia in un settore dove sono a comprare una volta sola, e o contemporaneamente il fatto che questa persona comunque, che io vendo una cosa che se non ho una volta sola, per esempio su alcuni settori che ho parlato tante volte, se io sono un agente immobiliare e vendo case solo a signora Maria e al signor Mario che sono sposati, questi compran casa una volta e poi magari divorzieranno, si separeranno magari e quindi avremo bisogno, ma diciamo normalmente non cambieranno casa, non è il mio cliente che il mese prossimo lo richiamo, dico torni da me a comprare qualcosa, ha un ciclo molto lungo, sette anni, otto anni, però queste persone, anche se tra virgolette il ciclo è così lungo, che per finta potremmo dire, soprattutto all'inizio, soprattutto nei primi dieci anni dell'azienda, non rivendo niente alle stesse persone fra dieci anni, questo se abbiamo di me, magari giustamente, però amore Dio seppure scordato, perché io magari non ho nemmeno tenuto rapporto per tutta una serie di motivi sbagliati, ma insomma anche comprensibili. Il punto importante è quale diventa? Il punto importante diventa che queste persone possono diventare i miei clienti ricorsivi, se io invece coltivo con loro un certo tipo di rapporto e li utilizzo per produrre riserva. Quindi questo modello di ingegneria finanziaria, questa rete, questo reticolo, è il terzo livello che mi permette di vincere la battaglia perché la nostra regola è colui che è in grado di spendere più soldi per acquisire un cliente, vince. Cosa significa a livello di ingegneria finanziaria? Significa che quando io faccio le campagne, io posso fare le campagne, già farle vuol dire che sto spendendo dei soldi, fossero anche le campagne più sfigate sulla faccia della terra pay per click su Facebook senza niente. Comunque sto investendo dei soldi. Già rispetto a uno che non sta investendo niente, io comunque sto investendo dei soldi, quindi vinco. Ma diciamo che la battaglia agli armamenti prosegue perché magari qualcuno mi copia, cioè mi ha copiato il messaggio, io prima l'ho battuto perché ho fatto le campagne, ma lui, anche lui comincia a fare per esempio il pay per click online e quindi cominciamo a essere lì. Il problema quindi, quale comincia a essere? Comincia a essere quanto io sto spendendo per acquisire un cliente. Che cosa significa? Significa che se lui fa le campagne pay per click, le sue campagne pay per click sono esistiamo, siamo qui, vienici a trovare o permetteci una visita a casa tua, dipende dal modello di business, o vieni da noi in azienda o permettimi di mandarti un rappresentante, un venditore in azienda a te, perché ne sto lavorando B2B o B2C. Questo fanno le campagne di marketing base stupide. Il concetto è che noi facciamo un marketing un po' diverso, cioè ecco che cosa facciamo, permettimi di inviarti tutta una serie di materiali informativi, un regalo completamente gratuito dove tu puoi trovare tutte le informazioni che ti possono aiutare e quindi sono di mille modi, però noi quando andiamo molto diretti sappiamo che abbiamo il concetto del nostro pacone, dentro ci può essere il libro, dentro ci può essere la video sales letter, con il libro vicino che si apre, a parte il video in automatico, e dentro ci sono le sales letter, i vari moduli, la garanzia, tutto quello che c'è all'interno, insomma, del corso del pacone delle meraviglie, è inutile che stiamo a riparlarne. Allora, questo ciclo fosse anche semplicemente più breve, cioè nel senso, permettimi di mandarti una sales letter, che sarebbe una brochure informativa, noi sappiamo una sales letter, prima di arrivare al pacone che è qualcosa di complesso, questa roba la devi far realizzare, cioè costa soldi, nel senso, fatti realizzare il libro, fatti realizzare l'infomercial, fatti realizzare tutti i materiali di marketing, fai il pacone, e stampalo, e spediscilo per ogni cliente, sono soldi, ok? Quindi questa persona ci mette 5 euro di pay-per-click e io aggiungo uno zero, ce ne metto 50, tra pay-per-click, pacone, spedizione, eccetera, eccetera. Quindi io ho decuplicato, in realtà, gli investimenti in marketing, e le mando uno, le mando due, e quindi ogni 3-4 pacconi, una persona, la sto mettendo giù molto male, ok? Però per capirsi, decide di darmi un appuntamento, quindi io semplicemente per parlare con una persona, ho deciso che ho investito dai 100 ai 200 euro, a seconda diciamo di quanto è il pacone. Poi devo ancora, insomma, devo vendergli il front-end magari, oppure gli vendo direttamente il front-end, ma questo front-end magari costa 50 euro, quindi vuol dire che io, ogni acquisizione clienti che faccio, in realtà con un front-end, magari con un'offerta straordinaria, quindi anche qui il concetto è chi può permettersi di spendere più, quindi è quanto, tra virgolette, prodotto, io aggiungo, quanti servizi io aggiungo, quanto sconto io faccio, per creare l'iniziale offerta straordinaria, per coinvolgere il cliente, quindi anche lì, io incasso, boh, 50 euro, però di margine in realtà poco, perché ho dato un sacco di cose ai clienti, quindi mi rimangono 20 euro di margine, e quindi vuol dire che io ho speso 200 euro per acquisire un cliente che me ne ha dati alla fine di margine per me 20, quindi c'è una sproporzione di una 10. Se questo fosse semplicemente il come sto facendo business, significa che ogni cliente al quale vendo un front-end, questo è sempre didattico ragazzi, semplicemente per capirsi, io sto perdendo 180 euro, ogni 10 clienti sto perdendo 1800 euro, ogni 100 clienti che acquisisco sto perdendo 18.000 euro, si fa presto a fallire così, quindi il punto è che uno che non è metodo vero, non capirebbe mai che cosa sto facendo, solo che poi magari, io sto acquisendo questi clienti, in front-end li sto acquisendo, ma poi il mio tasso di conversione sul resto, quindi sul resto della ragnatela che ho creato, quindi dal front-end, vado al back-end, e gli vendo realmente quello che gli voglio, e poi ognuno di noi ragazzi, a seconda di quello che fa, avrò quello che gli voglio vendere realmente, su queste cose io dovrò marginare così tanto, da andare a recuperare, normalmente con la vendita al back-end, dovrò recuperare i 100 euro che ho investito per acquisire, per iniziare a far aprire il portafoglio al cliente, e poi dopo io so che andrò di, dopo il back-end so che andrò di cross-selling, 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 so che andrò di up-selling, 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 e so che andrò di continuity, cioè questa persona rimarrà cliente con me, per un ciclo di vita, che ognuno di voi nella vostra azienda deve diventare bravo a calcolare, ciò che sarà il time value medio del cliente, quindi io so che posso spendere una cifra molto più alta, e quindi creare dei materiali molto più belli, che mi permettono di convertire molto di più, molto più velocemente, e di vincere con la concorrenza, perché semplicemente ho detto, venite qui, e noi gli abbiamo mandato questo paccone meraviglioso, con tutte le informazioni, il librone dei testimoniali, e tutte queste cose, che quando uno lo vede dice, cazzo, tra i due scelgo sicuramente questo, guarda che cura ha messo nei materiali di marketing, come noi diciamo sempre ragazzi, la cura che io metto nei materiali di marketing, parla al cliente, e gli dice quanto io investirò su di lui, perché solo se nei materiali di marketing, loro mettono questo investimento anche, questa cura, questa finezza, questo livello di dettaglio, io mi fido molto di più di un'azienda, che ha questo orientamento, rispetto a questi che mi hanno mandato, due mail di merda, una brochure del cazzo, o semplicemente non mi hanno addirittura mandato niente, hanno provato a fissare un appuntamento con me, capite ragazzi, che cambia completamente il gioco, perché? Perché io mi rendo conto, che se sto cliente per me, nel lifetime value di margine, ok, nell'arco di un anno, o due anni, o tre anni, quello che è, vale qualunque cip, 5.000, 10.000 euro, io, i 180 euro che ci ho rimesso all'inizio per acquisirlo, falgono assolutamente la pena, per rendere l'azienda a prova di proiettile, non siate pigri, cioè, non fermateli alle prime cosine, che avete imparato, o alle prime cosine, che avete implementato sul marketing, non fatelo, non fatelo, ok, dovete continuare, a rendere, il vostro marketing, più complesso, quindi, vi mettete lì, e riflettete tra di voi, per chi è nostro cliente affezionato, sapete che potete chiedere costantemente, possiamo revisionare, il funnel che ho, e vedere, cosa sarebbe giusto, magari, attaccarci, e voi lo sapete, per chi ha fatto le master, ma noi torniamo fuori, ci prendiamo qualche settimana, eccetera, eccetera, facciamo tutta l'analisi, dei vostri prodotti, della marginalità, di quello che è, e andiamo a scovare, il nuovo prodotto, o il nuovo servizio, sul quale abbia senso, per la marginalità, per la scalabilità, di questo prodotto o servizio, per il fatto che ci sia, una domanda consapevole, già grande, importante, eccetera, eccetera, per il fatto che la concorrenza, non sia eccessivamente forte, quindi questi sono, i quattro parametri, vi aiutiamo a montare, il funnel successivo, e ne montiamo, quanti ne servono, cioè, uno alla volta, gli facciamo fare i soldini, con quei soldini, compriamo il funnel successivo, e nel tempo, stiamo costruendo, quell'ecosistema, che rende la mia azienda, a prova di bomba, crea la mia azienda, a prova di proiettile, secondo concetto, è la differenza, tra essere, un optional, per i clienti, ed essere, essenziale, rendere la nostra azienda, a prova di proiettile, rendere la nostra azienda, forte, significa, che io voglio, mettermi in una posizione, nella quale, io sono l'ultimo, a essere tagliato, tra tutti i vari fornitori, non tra i concorrenti miei, cioè, proprio tra, in realtà, le cose, che possono, apparire superi, quindi, l'ultimo a essere tagliato, voglio essere, quello che è maggiormente, benvenuto, quando mi relaziono, con il cliente, quando gli parlo, lo chiamo, lo vado a trovare, viene a trovarmi, o gli mando dei materiali, di marketing, e, soprattutto, anche, quello che è impossibile, da comparare, quindi, voglio queste tre cose, quindi, voglio essere, l'ultimo che il cliente, gli viene voglia di tagliare, voglio essere, quello che è, maggiormente benvenuto, e voglio essere, quello che è impossibile, da comparare con gli altri, le aziende, durante i momenti, di serenità, tendono a appesantirsi, tendono a ingrassare, ok, perché si ricoprono, di costi, che poi, in realtà, sono inutili, o non sono sostenibili, quando ci sono, dei momenti, più difficili, ecco, io non voglio far parte, del grasso, che viene scartato, del grasso, che viene tagliato fuori, quando ci sono, questi momenti, di difficoltà, io voglio diventare, una cosa, un'azienda, un professionista, essenziale, per i miei clienti, in tempi buoni, e in tempi cattivi, parlando della creazione, per esempio, dell'orchestra, del gruppo, della band, della rete vendita, dove tutti quelli, che toccano i clienti, in realtà, sono venditori, questo è, struttura interna aziendale, ed è un ulteriore livello, di differenziazione, che c'è, quando c'è da vincere, la battaglia sul mercato, perché gli altri, ah ma chi ci ha copiato la frase, ho capito, e noi quanti livelli di, prima ci abbiamo messo, tutto il marketing, ok, poi ci abbiamo messo, la creazione, dei materiali di marketing complessi, poi ci abbiamo messo, l'ingegneria finanziaria, poi ci abbiamo messo, la struttura interna, la gestione dei collaboratori, tutti orientati alla vendita, e lui è qua, tu sei qua, che cosa ti ha copiato? Niente, niente, no ragazzi, questo è il messaggio bello, noi possiamo avere, un business che è opzionale, che sia il B2B, B2C, e attraverso il marketing, renderlo, in realtà qualcosa, che per il cliente, è essenziale, questo è il nostro lavoro, quindi spostare, il nostro prodotto, il nostro servizio, da opzionale, a sempre più essenziale, io ho bisogno del dentista, c'è il cambio di stagione, arriva l'inverno, io devo cambiare, le gomme alla macchina, perché se no, fanno la multa, non è che posso, evitare, io posso cambiare, operatore telefonico, perché non mi sta, non mi sto trovando bene, mi sta trovando bene, ma vado alla concorrenza, non è che posso stare senza telefono, come vivo ragazzi, senza telefono, quindi il concetto ragazzi è, se ho un business essenziale, nel mio marketing, è più facile, cioè portarli a decidere, me rispetto alla concorrenza, quando invece, tutti gli altri, noi compresi, abbiamo il problema di convincere le persone, a andare da me, invece che da qualcun altro, ma prima ancora, c'è un problema a monte, cioè abbiamo il problema di convincerle a fare, invece che non fare niente, e o rinunciare, quindi questo acquisto, io non lo faccio, questo acquisto, non è più obbligatorio, io non cambio più casa, non voglio più spendere quei soldi, c'è proprio il problema, ragazzi, di convincere le persone, a fare una roba, e poi, quando li ho convinti a fare, di scegliere tra me e gli altri, mentre io dovrei avere, la capacità attraverso il marketing, di portare le persone, nella mia direzione, e rendere il mio business, essenziale, completamente essenziale, qual è il concetto, nel quale bisogna lavorare, in termini di marketing, quindi io, se devo fare installare, non lo so, un CRM, noi rompiamo sempre le palle, del nostro CRM, vi serve, io capisco, che sia, siete a tirci, è un investimento, sarà un investimento, devi tirare fuori i soldi, è una rottura di palle, perché è difficile, è una rottura di palle, perché all'inizio, come tutte le cose, devi imparare, ma ci parli te, con i miei collaboratori, che poi non vogliono, no, ci parli a te, con i tuoi collaboratori, devi spiegare, che devono inserire i dati, eccetera, eccetera, ok, però, per questo lo spiego, no, che bello, col CRM, avrai tutti i dati archiviati, ed è più veloce, ti permette di fare più cose, rispetto a, non lo compra nessuno, probabilmente, le argomentazioni di acquisto, devono essere quello che vuoi, quindi è, vendere di più, vendere più velocemente, non perdere i clienti, avere sotto controllo la clientela, riuscire ad avere più referenti, cioè tutte queste cose, allora, io ti sto vendendo queste cose, che casualmente, si fanno, anche nel B2B, in questo caso, attraverso un software, quindi ti faccio guadagnare di più, ti faccio spendere di meno, ti faccio sprecare di meno, e ti faccio battere la concorrenza, perché tu sei un CRM, la concorrenza, col marketing e la vendita, non lo puoi battere, è il CRM che ti permette, di gestire una rete vendita, controllare la rete vendita, e lo puoi fare, se sei un CRM, io ti sto vendendo queste cose, io ti sto vendendo, le caratteristiche tecniche, in realtà, del prodotto e del servizio, ma vi è capitato, di avere dei clienti, che vi dicono, ma adesso abbiamo altri cazzi, ecco, voi dovete fare in modo, che il vostro marketing, la vostra vendita, riescano a portare, il cliente a dire, no, questi cazzi, vanno guardati adesso, quindi ribaltare, il punto di vista, dove non vendo i benefici, del prodotto e del servizio, ma vendo i benefici, legati a me, alla mia famiglia, o alla mia azienda, a seconda di quello che sto facendo, che li ottengo, grazie all'acquisto, di un prodotto, che puoi fare determinate cose, ma che mi danno, quei benefici, di cui parlavamo prima, quindi dateci dentro, ragazzi, rock and roll, e alla prossima, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.